Cultura come nutrimento del territorio, come diritto delle persone, come linguaggio per la formazione civica dei cittadini. È il principio alla base del progetto La Grande Magia, che inaugura al Teatro San Ferdinando l'esperienza degli atelier teatrali territoriali, ideata dal Comune di Napoli con l'adesione della Fondazione Eduardo De Filippo. I laboratori sono rivolti ai bambini e ai ragazzi, ma anche alle mamme del quartiere San Lorenzo, come occasione di partecipazione sociale e di formazione creativa. Con un bando di selezione sono state individuate le proposte di quattro associazioni, i Teatrini Femminile Plurale, Officine e Festi e Interno 5, cui è affidato il percorso di pedagogia teatrale, gratuito per i partecipanti, che è partito questa mattina 16 luglio e che andrà avanti fino a dicembre. Le nostre esperienze che già accadevano in altri quartieri della città, limitrofi, chi ha forcella, chi ha la sanità, chi ha il centro storico, in questo momento con il progetto degli atelier individuiamo un percorso quasi di casa da abitare, un punto di riferimento, mentre prima eravamo sparpagliati nelle diverse piccole associazioni, nei luoghi a volte neanche tanto attrezzati, entrare qui nel luogo della meraviglia del teatro e quindi farci aiutare in questo proprio dallo spazio teatrale per amplificare la possibilità magica che ci dà il teatro nell'approccio pedagogico. Il San Ferdinando ha una sua fisionomia singolare, col foie circolare che si affaccia su un secondo spazio più ampio, un agora, perché questo teatro fu concepito da Edoardo come luogo di aggregazione per il quartiere, spiega Giulio Baffi, critico teatrale, che del San Ferdinando fu direttore all'inizio degli anni Ottanta. Vogliamo avere un ruolo attivo sulle politiche culturali che sviluppano la cittadinanza attiva, spiega l'assessora di Nocera, perché tutti abbiano l'opportunità di accedere alla consapevolezza con cui vivere e comprendere la produzione culturale che circola in città. Contiamo che prima o poi anche i privati aderiscano e sostengano questi progetti, come avviene di norma a Londra o a New York.